Nessun avvistamento stavolta della Volpe con cui aveva stretto un'amicizia testimoniata da un video che fece il giro del web, ma Luca Chiarini, da Solarolo, Vravenna, il bura per chi lo conosce come atleta disabile della Federazione Italiana Tennis Tavolo, è tornato a Sondalo all'ospedale Morelli del quale potrebbe essere valido testimonial. La mia è una scelta professionale per quanto riguarda la bravura di chi lavora al Morelli ma anche di cuore perché credo sia uno di quegli ospedali e uno di quegli istituti da difendere e da continuare a sostenere. Luca stavolta si tratta dell'ottava per lui, si è recato a Sondalo a 500 km da casa per sottoporsi a un intervento programmato in quell'unità spinale che dice mi ha già salvato la vita. Qui l'uomo, 44 anni dei quali la metà su una sedia a rotelle e in seguito a un incidente, ha ritrovato infermieri, operatori sanitari, medici e terapisti che per lui sono diventati ormai una seconda famiglia. C'è sicuramente la difficoltà nel trovare personale, osserva, soprattutto infermieri per quel che vedo, ma l'unità spinale non molla anche se oggi è accorpata in un unico piano insieme all'unità complessa di neuro-riabilitazione. Io, come tanti altri che vivono una fisicità complessa, spero che il terzo piano riapra nel minor tempo possibile. Io parlo per me da paziente, ma parlo anche a nome di Emanuele Ardovino, 17 anni, di Salerno, giovane promessa del tennis tavolo paralimpico, che grazie a questo ricovero a Sondalo potrà sedere finalmente in maniera corretta nella carrozzina quotidiana, ma potrà anche creare la sua carrozzina da gioco grazie alla grande competenza di Antonio Spagnolin e del suo staff di terapisti.